Ma se non umanamente, come pilota ti è rimasta della stima per lui? Io credo che lui come pilota è senza dubbio un grande pilota, basta guardare i suoi risultati. Abbiamo avuto dei problemi, sono cose che capitano, abbiamo delle idee diverse, educazioni diverse, perciò ognuno ha la sua strada. Chi se no? Non voglio parlare di lui perché non mi interessa più, scusa.